azione di che cosa parliamo oggi di cocommeri ma me lo offri questo aperitivo fantastico senti una piccola cosa vieni qua io ho un blog che si chiama tenere di favore abbiamo un pubblico che cosa facciamo oggi qui un aperitivo lamburiata e dove lo facciamo qua al peluchero duilo torre perfetto allora ora mi offre qualche cosa una bella sangria che è lì giù in fondo ma io vorrei farvi vedere quante grande per tutti quei clienti che vorranno venersi a farsi bella qui da duibio torre una volta a settimana facciamo che facciamo l'anguriata l'anguriata e che cosa come composto l'anguria o l'anguriata è un'anguria scavato un po come l'ho scavato vino moscato frutta di qualsiasi tipo che può essere da limone all'arancia fragola frutti molto bene miro che è spettacolare che non profumo voi non lo potete sentire ma da duilio torre francesco gallori vi augura buon appetito perché questo non è solo da bere ma è da mangiare vi aspettiamo numerosi ciao ciao duilio puoi salutare i nostri amici buongiorno sto facendo un colore sono concentrato ma mio vieno c'è una polina vale ci vediamo la prossima puntata ciao